Allora, da Evolution Forum Day è stato un evento che mi è appunto stato consigliato. Non sapevo cosa aspettarmi perché è un mondo che non avevo mai conosciuto. Devo dire che sono andata a braccia aperte, a mente aperta e ne sono rimasta veramente soddisfatta perché mi sono ritrovata a vivere un'esperienza veramente forte e soprattutto aver avuto la possibilità di aver incontrato delle persone che hanno con tutta la loro energia, con tutta la loro forza, si sono veramente tirate fuori da una situazione drastica a volte, mi ha fatto capire quanto una persona scoprendo all'interno di sé può tirare fuori una forza veramente importante. Questo mi ha fatto capire che possiamo, se vogliamo, superare qualsiasi situazione della nostra vita. Quindi è stata un'esperienza veramente molto molto importante e che mi ha segnata veramente tanto. E io consiglierei a qualsiasi persona di andare a vivere un'esperienza di questo tipo perché ti cambia il cuore e la mente, ti migliora, ti migliora tantissimo. Io da Evolution Forum Day mi aspettavo qualcosa di grande perché le mie aspettative erano veramente molto alte conoscendo Evolution Forum per appunto, ma devo dire che quella giornata mi ha lasciato senza parole perché le mie aspettative sono state ampiamente soddisfatte, appagate, ma ho ricevuto qualcosa ancora di più grande. Perché credo sia una giornata, un contenitore, chiamiamolo così, dove chi partecipa riceve veramente dei valori, dei valori di grande spessore. Quindi è un contenuto di emozioni, di testimonianze, di esperienze, di vita vissuta che può solo che arricchirti. E farti tornare a casa, come diceva Valentina, una persona migliore. Quindi sicuramente un'esperienza da vivere una volta nella vita. E non solo una volta, continuare tutto il percorso. La gioia di vedere è la gioia proprio interiore. Mi è sembrato quasi di entrare in connessione con il pensiero e con le emozioni che provavano i ragazzi che hanno vissuto, che vivono all'interno di questo istituto, di questa scuola. E quindi mi hanno lasciato proprio nel sangue lo scorrere proprio della gioia, dell'emozione, della rinascita. Ecco, la rinascita. Questa è una cosa che mi ha particolarmente fatto emozionare. Se dovessi sottolineare un'emozione, più che un'emozione la definirei, è stato un impatto. L'impatto che ho ricevuto è stato quello della semplicità. Spesse volte la nostra vita è complessa, articolata, ce la complichiamo. Colpa anche della quotidianità, del mondo esterno. Lì ho visto semplicità. Semplicità di persone che hanno deciso di azzerare tutto quello che era il loro passato, il loro background, e di ripartire. Con semplicità. Facendo delle piccole cose, come ad esempio rifarsi il letto tutte le mattine. Ripartire con semplicità e rimettere ordine. Ordine alla propria vita. Questo è quello che mi è rimasto. Consiglierei a tutte le persone che hanno voglia di credere nuovamente in qualcosa, perché lì è un insegnamento veramente forte della vita. E lo consiglierei anche, soprattutto, ai genitori. A dei genitori perché ci può insegnare in che maniera accompagnare il percorso dei propri figli, nella maniera più corretta. Quindi anche questa cosa mi ha segnato molto e mi hanno dato un insegnamento veramente potente questi ragazzi. A chi consiglierei questa giornata? Lo diceva Valentina. A chiunque. Vuoi diventare un genitore migliore? Vuoi diventare un amico migliore? Un collaboratore migliore? Un collega migliore? Una persona migliore? È la giornata adatta per te. Noi siamo diventati genitori da poco tempo e credo che questo evento ci abbia un pochino messo in guardia davanti a quelle che sono le sfide, le difficoltà, i pericoli che un bambino nella sua età adolescenziale può incontrare. Quindi in primis ci ha autoschermati, ci ha aiutati a difenderci e ci ha insegnato quanto è importante insegnare ai nostri figli a schermarsi da queste dinamiche che il mondo marcio spesso e volentieri ci mette davanti, la fetta di mondo marcio ci mette davanti perché il mondo è meraviglioso e in questo evento lo abbiamo sottolineato ancora di più. I contenuti della giornata sono sempre pieni di esperienza e di professionalità, infatti penso che queste giornate siano adatte anche e soprattutto ad imprenditori perché le testimonianze che abbiamo potuto ascoltare da questa giornata sono utili a chiunque ma soprattutto a chi vuole diventare un imprenditore, vuole essere un bravo imprenditore, vuole essere magari un bravo leader. Quindi vengono dati dei consigli, delle chicche e dell'esperienza di vita che ripagano il biglietto che uno veramente si deve prendere comunque per poter accedere a una giornata di questo tipo. Quindi in quella giornata si vivono tante, tante, tante emozioni e vengono dati dei consigli veramente importanti per la vita quotidiana. I contenuti di questo evento sono importantissimi, qui si vede che c'è stata una selezione accurata da parte dello staff di Evolution di Gianluca stesso per andare a portare su quel palco, e quel palco pesa tantissimo in termini di valore, contenuti che possono essere utili a chi fa impresa, come diceva Valentina, ma anche chi fa impresa in famiglia, chi fa il genitore. Quindi contenuti importanti, possiamo patrimonializzare le esperienze degli ospiti che hanno portato testimonianze su quel palco e quindi credo che in una giornata si portino a casa delle informazioni molto molto importanti, molte nuove, sconosciute, molte con l'obiettivo di darci una riconferma che stiamo percorrendo la strada giusta. Quindi i contenuti su quel palco hanno veramente uno spessore importantissimo e si vede che c'è stata un'accortezza nella selezione. Emozioni, professionalità e coraggio di affrontare la vita. Dovessi descrivere Evolution Forum Day con tre parole direi bello figo tanto, cadendo nel giovanile, ma se dovesse essere un po' più tecnico direi emozioni allo stato puro, emozioni, trasparenza, trasparenza e rinascita. Rinascita perché questo progetto, questa giornata, questo contenitore mi ha dato veramente una grande prospettiva e voglia di rinascita sotto tutti gli aspetti. Grazie. 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 Grazie.